Buongiorno Deido, abbiamo chiuso la settimana parlando dei layoff in Microsoft e un paio d'ore dopo l'uscita di quell'episodio era arrivata la notizia che Google avrebbe seguito a ruota con un massiccio taglio di propri dipendenti. In una mail inviata dal CEO Sundar Pichai ai dipendenti e poi pubblicata sul blog ufficiale, Google ha annunciato il licenziamento di 12.000 persone, pari a circa il 6% della forza lavoro globale, a causa del rallentamento economico, ma soprattutto perché in periodo di pandemia c'è stata una crescita enorme del personale per riflettere la realtà di un'economia totalmente diversa da quella di oggi. Nel primo trimestre del 2020 in Google lavoravano poco più di 120.000 dipendenti, ma questo numero era salito a 186.779 alla fine di settembre dello scorso anno. La società ha iniziato una valutazione dei propri progetti e ruoli alla fine del 2020 dopo aver registrato un rallentamento della crescita delle entrate e un calo del profitto operativo. Pichai ha confermato che l'azienda ha eseguito una revisione rigorosa in tutti i settori per assicurarsi che i dipendenti e i ruoli siano allineati con le priorità aziendali. Per aiutare a risparmiare denaro e aumentare la produttività, Google aveva lanciato l'iniziativa Simplicity Sprint l'essere scorsa, che puntava a migliorare la produttività attraverso un sondaggio tra tutti i dipendenti con tre domande chiave che miravano proprio a eliminare gli sprechi. Vi lascio un link che spiega meglio questa iniziativa. Inoltre l'azienda ha chiesto ai dipendenti di limitare le spese, tra cui i viaggi. Pichai ha rivelato in una nota interna che l'azienda pagherà ai dipendenti licenziati il periodo di preavviso completo, che è minimo 60 giorni, più un pacchetto di liquidazione a partire da 16 settimane, i bonus e le ferie del 2022 e garantirà la copertura sanitaria per sei mesi. C'è da dire che purtroppo pare che non tutto questo processo sia stato gestito in modo impeccabile. Su Twitter e Reddit sono apparsi in questi giorni i post di dipendenti Google, ora ex dipendenti, che hanno scoperto del licenziamento perché il proprio badge non risultava più valido all'entrata in ufficio. Quindi non benissimo qui è, ma l'abbiamo visto anche con altre compagnie americane che assunzioni e licenziamenti seguono un iter un po' semplificato, diciamo, rispetto a noi europei. Tra i passaggi della mail di Sundar Pichai si parla di uno shift da un'area all'altra, che ricorda un po' il platform shift di cui ha parlato Satia Nadella nel memo analogo, ma qui si fa esplicito riferimento all'intelligenza artificiale. Dice Pichai, essere limitati in alcune aree ci permette di scommettere molto su altre e aggiunge che in virtù degli investimenti fatto nel campo dell'intelligenza artificiale i prodotti di Google sono migliori che mai. E in ultimo, cito, trasformare la società affinché fosse focalizzata sull'IA anni fa ha portato ad avanzamenti rivoluzionari attraverso le nostre offerte e l'intera industria. E bisogna ricordare, infatti, che Google aveva creduto e investito nell'IA già nel 2014 con l'acquisizione del centro di ricerca DeepMind, oltre ad aver creato Google Brain nel 2011 con a capo Jeff Dean come centro di ricerca sul Machine Learning. E nonostante sembra aver accusato il colpo del recente successo di OpenAI e Microsoft con GPT, l'IA è strettamente integrata nei servizi che offre e aspettiamo novità ancora più dirompenti nei prossimi mesi, soprattutto all'evento I.O. di maggio, dove si vecifera di tool per generare immagini, green screen in YouTube e una sorta di chatbot integrato in Google Search. E visto che avevamo parlato di soldi nell'episodio su Microsoft, facciamo i conti pure a Google. Nei report dello scorso ottobre il fatturato era di 69 miliardi di dollari e l'utile di 13.9 miliardi. E questo significava un incremento del fatturato dai 65 miliardi dello stesso quadrimestre del 2021, ma una contrazione dell'utile dai 18.9 miliardi. In ultimo, da vari report risulta che i lay-off in Google hanno interessato praticamente ogni team, inclusi Chrome, Search, Android e Google Cloud. Ma un'area che è rimasta praticamente invariata è stata proprio la già citata Google Brain, segnale questo di dove si concentreranno gli investimenti nel prossimo futuro. E per concludere il buongiornissimo di oggi, riporto il post di GitHub che dà l'addio ufficiale a Subversion e dismetterà il supporto a questo, un tempo popolare, controllo di versione. Era il 2010 quando GitHub introdusse il supporto a Subversion e quando a dominare le classifiche era Kesha con TikTok, perché, insomma, lei già sapeva qualcosa. E in quegli anni la situazione dei software di versioning era diversa. Subversion era sul mercato da dieci anni, mentre Git era il nuovo rampante arrivato e non era scontato chi avrebbe dominato negli anni successivi. GitHub, quindi, offrì nativamente il supporto a Subversion su un backend Git, rendendo quindi facile passare da un sistema all'altro o supportare repository legacy e pensare magari a un passaggio graduale. Oggi, invece, continua il post ufficiale, la situazione è molto diversa e Git è usato dal 94% degli sviluppatori e i numeri di GitHub lo confermano. Infatti, meno dello 0,02% delle richieste al backend Git passano attraverso un endpoint Subversion e solo circa 5.000 repository in totale hanno almeno una richiesta Subversion al mese. Il motivo dell'abbandono del supporto è dovuto, naturalmente, al costo di manutenzione, che per quanto esiguo comunque richiede un supporto costante che non ha più senso a fronte di questi numeri. Il supporto da Subversion su GitHub continuerà fino all'8 di gennaio del 2024 e sarà poi spento e rimosso. E direi che spegniamo anche questo episodio del Buongiorno da Edo che, come sempre, è disponibile anche in podcast. Tra l'altro, lo sapevate, che su Spotify è visibile anche in video? Beh, sapevatelo. E quindi, grazie per aver seguito anche oggi e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao, 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 ciao